Il governo sembra ormai intenzionato a riaprire le scuole subito dopo le vacanze pasquali, forse non tutte ma certamente le primarie e quelle dell'infanzia. Lo ha detto ieri durante il question time il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi ma lo aveva annunciato lo stesso presidente del consiglio Mario Draghi poche ore prima nel corso di un suo intervento al senato. Stiamo guardando attentamente i dati sui contagi ha detto Draghi riapriremo la scuola in primis appena la condizione epidemiologica lo permetterà e cominceremo a riaprire almeno le scuole primaria e dell'infanzia subito dopo pasqua anche nelle zone rosse. Per la verità va detto che la possibile ripresa in presenza non entusiasma più di tanto gli insegnanti perlomeno se si deve prestare fede agli esiti del sondaggio promosso dalla nostra attestata. Su 10.000 lettori che hanno risposto alle nostre domande la metà almeno ha detto di essere del tutto contraria al rientro a scuola. Quasi uno su cinque sarebbe però d'accordo al rientro ma solo per infanzia e primaria. In realtà la resistenza maggiore degli insegnanti sembra legata ad una campagna di vaccinazioni che non è ancora decollata completamente anche se per la verità ad oggi al personale della scuola sono già state somministrate 800.000 dosi. Quello che è certo comunque è che per il momento c'è ancora molta confusione soprattutto ci sono molte differenze da un territorio all'altro. Per esempio scuole chiuse anche in zone arancioni o anche chiusure decise dall'oggi al domani senza dare il tempo alle scuole e alle famiglie di organizzarsi. Ormai però il nuovo DPCM è in arrivo ed è molto probabile che questa volta il presidente Draghi riuscirà ad adottare un provvedimento condiviso perché su alcuni punti sembra esserci ormai l'accordo generale all'interno delle forze di maggioranza. Negli ultimi giorni per esempio sulla opportunità di riaprire almeno primarie e infanzia anche nelle zone rosse si è creato uno schieramento molto ampio e quindi potrebbe essere questa la soluzione che sarà recepita dal prossimo DPCM. Ovviamente su questo continueremo a tenervi informati quindi seguiteci su questo canale ma seguiteci anche nel nostro portale www.tecnicadelascuola.it. Mandateci le vostre osservazioni, i vostri commenti, noi ne daremo conto come di consueto.